Oggi sabato 5 febbraio, come tutti i sabati dedicati a voi, mi arriva una lamentele sulla scuola dell'Orciolaia dalla signora Monia. Purtroppo è giunta voce che la scuola chiude, visto che l'anno scorso la classe prima non è stata fatta. Siamo arrivati a 10 iscrizioni e se non si raggiunge il numero di 15 non si fa la prima. Visto che abbiamo già dei figli che frequentano la scuola, non sappiamo come fare. Cioè questa signora Monia vuole spiegare che se l'anno scorso non è stata fatta la prima classe perché non c'era il numero, non vuol dire che non venga fatta quest'anno. Quindi cercate, anziché portare voi abitanti dell'Orciolaia o della zona, portare in altre scuole i vostri bambini, di portarli alla scuola dell'Orciolaia. Noi credo che Rita potremmo fare anche una visita nel posto. Poi l'Orciolaia è quel posto dove c'è le sparatorie, ma mica tutti i giorni c'è le sparatorie. Quello ci pensano gli albanesi di notte, voi portate i bambini a scuola la mattina. Poi molti messaggi vostri sono su Berlusconi. Mascia dice, sinceramente penso che se ne sta parlando troppo. Chi non andrebbe a scena per 5.000 euro? Finiamola di fare gli ipocriti perché anche la gente più comune si comporta come il Berlusca. Lui però è più sottotiro e comunque facesse bene il suo lavoro. Chi se ne frega di quello che fa nel privato? A me fa schifo per altri versi, non per i suoi festini ad arcore. Carla, rubi? Rubi? Hanno scoperto che rubava? C'è, ci ha capito poco Carla. Lucia ovviamente scherza, eh Carla. Luciano, che tristezza, spero che non sia uno spaccato della città. Ha riferito al servizio su Berlusconi, sì. I fans del Berlusca più comunisti di quando c'erano i comunisti. I qualunquisti che più qualunquisti non si può. Sempre caso Berlusconi e Minorenni, quindi tutto risolto, dice Roberta. Non ci posso credere, ma come si fa veloce a risolvere certi problemi? È una vergogna, sono arrabbiatissima e schifata. Solo i miei problemi non si risolvono mai. E quelli di tante altre persone come me. Roberta, vai a arcore, a cena, scusa. Che stai a cenarezzo? Certo se mangi in casa. Laura dice, sempre su Berlusconi, ma lo sai che mi lascia parecchio perpresso il luogo comune che ognuno in casa sua fa quello che gli pare. In casa propria si fa quello che si crede più opportuno finché non costituisce reato. Ma è difficile far passare questo messaggio. Parecchio faticoso. Brava Laura, sei stata molto oculata sulle tue decisioni. Tina dice, cari concittadini, quando ad Arezzo c'erano i comunisti, e io sono una di questi, le cose andavano sicuramente meglio. Negli anni 50 la nostra città era prettamente agricola. e diventando poi industriale, portando il benessere di qualunquisti ce n'erano ben pochi, ma molte buone teste, capaci di portarci in una dimensione migliore da quella in cui ci ha traghettato questo governo. Ora, cara Tina, ti faccio presente che dagli anni 50 a oggi hanno governato i comunisti, Arezzo, cioè i tuoi. Ora, può darsi che siamo messi male, ma chi è causa del suo male? Comunque Tina, io ti rispetto. Caso Rubi per Isabella, caro Leonardo, ho ascoltato, io penso che un Presidente del Consiglio non può fare quello che vuole. La sua vita privata ci riguarda e come? Marrazzo si è dimesso ed è sparito. Paolo dice, il caso Rubi, il nuovo film in uscita, l'ispettore Berlusconi, il caso Rubi è tuo. Ed infine vi ricordo che stasera, non riguardo Berlusconi, ma riguardo Al Gredi, che è il bar, il ristor bar sulla galleria di Guido Monaco in centro di Arezzo, c'è un menù a tema che c'è stasera e non più il venerdì. E dopo questo menù a tema vi saluto, a domani, ho delle grosse novità anche domani. Ma perché? Se le dico? Ci sono, cascechi se ne è vero. Ciao. Ciao.